Ciao a tutti, giusto recentemente abbiamo fatto proprio una diretta dove parlavamo della dualità ed è il periodo molto particolare che stiamo affrontando, anzi vivendo. È un periodo dove noi stessi siamo chiamati a rimanere in contatto con l'unità che noi possiamo scoprire permettendoci di entrare in quello stato che noi raggiungiamo con la divine connection. Non si tratta tanto di un sapere ma si tratta proprio di un sentire, di un percepire, di un vivere in quello stato. Infatti è molto facile giudicare gli altri quando non riescono ad essere in questo stato. Come abbiamo proprio detto anche quando ne abbiamo parlato, anche molte persone che sono dei conduttori, dei capitani che lavorano proprio nella spiritualità, stanno cadendo in questo equivoco, noi contro di loro. C'è proprio un'evidenza della dualità, dello stato duale che in realtà noi siamo chiamati a trascendere. Quindi non si tratta di giudicare le persone quando cadono in questo stato perché ciascuno di noi ci sono dei momenti in cui in qualche modo è più debole, ha meno energia e quindi si trova in una difficoltà nel percepire quello stato. Quindi indipendentemente da chi siano le persone che tu rilevi avere questa difficoltà, in alcuni momenti se tu ti trovi in uno stato in cui percepisci l'unione, ti senti maggiormente centrato, hai il compito di lavorare su di te, per te e per tutte le persone attorno a te. Quindi non si tratta tanto di entrare in uno stato di giudizio che crea a sua volta dualità, ma di entrare in uno stato di compassione e di amore per aiutare anche le persone attorno a te. Ed è proprio lì che stiamo cercando di andare tutti assieme. Non si tratta quindi di dire con l'ego spirituale, io sono meglio di te perché sono centrato e non sono nella dualità, è proprio quando dici questa cosa tu entri in uno stato di dualità, molto molto profondo in realtà, perché stai dicendo io sono meglio degli altri. Non è assolutamente questo, ma si tratta proprio di prendersi la responsabilità con amore e compassione e quando noti di essere magari più centrato di alcune persone attorno a te, magari in quel preciso momento, di utilizzare la tua energia, la tua consapevolezza, la tua centratura per portare beneficio nella tua vita e in quella di tutti gli altri. Magari meditando un po' di più, portando una maggior consapevolezza nella vita di tutti i giorni, proprio attraverso le tue scelte, attraverso le tue azioni, attraverso l'energia che riesci ad emanare. Ok? Quindi ovviamente in questo ti può aiutare la Divine Connection che ti permette di entrare in questo stato in pochissimi minuti e se la utilizzi spesso anche in secondi e di utilizzarla il più spesso possibile proprio per rimanere in uno stato di pace. Bene, questo era quello che volevo proprio comunicarti in questo video, quindi di rimanere nello stato di amore il più possibile e di, se non sei ancora nel gruppo, iscriverti al gruppo Facebook Divine Connection e di inviare, se non sei ancora iscritto alla nostra newsletter, una mail a info-divineconnection.one per essere iscritto anche alla nostra mailing list e ricevere tutte le informazioni e il materiale che condividiamo con tutti voi. Vi mando un abbraccio e buonissima giornata. Ciao, buona unione! Ciao, buona unione! Ciao! 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 Ciao!